Venezzo Crocetti nasce a Giulianova il 3 agosto 1913. Si dice che a 5 anni disegnava con il carboncino sulle pareti di casa e sui muri delle strade. A scuola è bravissima il disegno e disegna soprattutto gli animali. Trascorre i pomeriggi nelle botteghe artigiane a modellare figurine per impiegate. Dopo la perdita dei genitori si trasferisce a Roma dagli uzzini e la maggior parte dei suoi pomeriggi li trascorreva il giardino zoologico a osservare gli animali attentamente per poi disegnarli. Partecipa ai concorsi e rispone le sue opere in Italia e all'estero. Le sue opere più importanti sono la maternità, l'annunciazione, il monumento ai caduti di tutte le guerre. Anche se vive a Roma, mantiene sempre un forte legame con la sua terra d'ambulsa. Nel 2003 muore nella sua casa museo, divenuta poi sede della fondazione Crocetti. Anche se viveulle con la sua tilletti. Grazie.